L'associazione Convivio, all'interno del programma della quinta edizione La Montagna Fumetti 2024, ha raccolto fondi che ha devoluto alla Lilt, Lega Italiana Tumori, consegnati dal presidente Gabriele Caradori nella sede Lilt di Pistoia alla presidente Giulietta Priami. È stata la quinta edizione a favore di Lega Italiana Lotta Tumori, dove abbiamo raccolto 1.601.10 euro in 8 comuni, gli 8 comuni interessati dal nostro programma, ormai diventato un programma provinciale. Oltre ai comuni, regioni e provincia hanno aderito e supportato il progetto 8 musei, 8 associazioni umanitarie, 6 prologo, 15 disegnatori, 2 guide escursionistiche, la Slow Food, la Mutedo, Museo del Design Toscano, la Banca di Pescia e Cascina. Ma anche 40 aziende private e soprattutto 120 cittadini di tutta la provincia che hanno dato un loro contributo per permetterci di realizzare questo, senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. E hanno nuovamente confermato che la nostra provincia, la provincia di Pistoia, è un luogo dove la solidarietà passa per la cultura. Come impiegherete questi soldi? Stiamo acquistando nuovi apparecchi diagnostici, in particolare stiamo acquistando il nuovo Fotofinder, che è un dermatoscopio di ultima generazione, che dovrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni e la somma che ci è stata donata dal convivio e che ringraziamo tanto perché veramente hanno fatto un lavoro immenso. Quindi la somma raccolta è importante, anche se come sappiamo gli apparecchi diagnostici hanno costi enormi. Però insieme a tutte queste raccolte che riusciamo a fare ci stiamo dotando di apparecchi ottimi.